cominciamo vicino alla rete con l'elastico tra le mani o con un fune qualcosa di comodo per trazionare che faccia un pochino di resistenza partiamo con le scapole e le spalle in appoggio e cominciamo un pochino a tirare le braccia all'altezza delle spalle i nostri tre appoggio a parete come sappiamo nuca tratto toracico e il nostro cocci gelacodina fuori aria traziono l'elastico e dentro aria lasciamo i gomiti leggermente flessi rilassiamo il collo sentiamo bene i pettorali e le braccia oggi che lavorano concentriamoci sugli arti superiori restiamo con le braccia tirate quindi tese che tirano l'elastico e portiamo un pochino le braccia a parete ok pancia tenuta mentre siamo lì retroversione bacino appoggiamo bene la lombaria parete stringiamo glutei addome e ritorniamo in neutro e di nuovo retroversione fuori aria dentro aria torno cerchiamo di non muovere le braccia lasciamo le belle tese a parete con l'addome forte ancora una volta retroversione solo della lombare e poi ritorno in neutro e adesso andiamo solo con la testa mento sul petto e poi torno dritto quindi questa volta lavoriamo col tratto cervicale della colonna senza forzare fuori aria mento giù dentro aria mento dritto in avanti e l'ultima volta vado e torno e poi lasciamo l'elastico e lentamente riportiamo un po' le braccia giù riposiamo un attimo scivoliamo con le spalle a parete mantenendo le scapole bene a contatto e poi portiamo le braccia in avanti scapole sempre bene in appoggio adesso quando tiriamo l'elastico andiamo direttamente a portare il mento sul petto staccando la nuca dalla parete e andiamo in retroversione con il bacino il pubba in avanti stringo tutto ritorniamo in neutro con le due curve e lasciamo l'elastico e di nuovo fuori aria stringo tutto retroversione metto sul petto tiro l'elastico e dentro aria lascia e torno in neutro facciamo l'ultima volta mantengo trazione controllo posizione resto un po' tiriamo solo l'elastico in fuori 1 2 3 4 5 6 6 8 9 10 e ritorniamo in neutro e lasciamo ok rilassiamo un attimo la testa solo un pochino testa su e giù quindi prima il mento sul petto torno dritto poi il mento un po' al soffitto scivolando con la nuca a parete e torno dritto piano piano giù e su facciamo l'ultima volta fuori aria giù e prendo aria su ok lentamente scivoliamo con la schiena la parete scegliamo più giù che possiamo sentiamo i talloni che spingono non sforzate le ginocchia scivolando con i tre punti in appoggio e poi torniamo e facciamo solo questo ora finiamo il riscaldamento degli arti inferiori fuori aria scendo e dentro aria salvo e facciamoci questa scivolata come se volessimo grattarci la schiena sulla parete ok e poi allontaniamoci usci dalla parete mettiamoci seduti con la schiena verso la parete e andiamo a prendere l'elastico di nuovo questa volta agganciamo la gamba partiamo con una delle due gambe la stessa cosa partite con la vostra destra ok appoggiamo sempre un pochino i nostri tre punti di riferimento usiamo la parete come riferimento per stare dritti con la schiena ok da questa posizione spingiamo bene il tallone destro in fuori e facciamo punta tallone mantenendo bene il piede agganciato sotto la pianta del piede va bene anche l'elastico normale a me questo c'ha i buchi ma la stessa cosa lasciamo le spalle rilassate lontane dalle orecchie punta tallone restiamo con il piede spinto in fuori e proviamo a staccare un pochino la gamba con l'elastico che ci aiuta andiamo a fare dei piccoli molleggi della gamba tesa un pochino pochino oggi è giornata di tiraggi e quindi sentiamo è una lezione che tira che stiracchia molto di allungamento e di stretching e poi riappoggiamo oggi ok togliamo l'elastico e agganciamo l'altro piede in questo caso il sinistro sistemate sempre il tallone che lavora punta tallone quindi i primi esercizi per la caviglia per la forza i muscoli del piede che lavorano fuori aria punta dentro aria tallone lasciando sempre la schiena lì controllando che sia dritta dritta e poi ci fermiamo con il piede in flex e stacchiamo e anche qua anche se tira tutto sotto il ginocchio anzi va bene quindi non abbiate paura ci deve tirare e andiamo a cercare di molleggiare la gamba tesa verso il soffitto con la punta del piede in su ok e poi scegliamo giù ritorniamo l'elastico lasciamo tutte e due le gambe tesissime con i talloni spinti in fuori e risentiamo il lavoro delle braccia quindi scapole bene in appoggio tiriamo l'elastico e direttamente portiamo le braccia su manteniamo posizione e andiamo soltanto a staccare la nuca dalla parete scivolando con il mento sul petto e poi torno dritto e di nuovo solo questo fuori aria giù e dentro aria su se non ce la facciamo ad arrivare con le braccia tese dietro la testa non ha importanza come sappiamo arriviamo dove riusciamo l'ultimo fuori aria giù e dentro aria su accompagniamo un pochino le braccia giù andiamo a riposare di nuovo un po le spalle scivolando con le scapole e le spalle a parete le solleviamo un pochino su e poi ci prendo aria su e fuori aria giù morbido morbido restiamo di nuovo spalle belle giù 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 elastico impugnato all'altezza delle spalle e tiriamo solo l'elastico quindi fuori aria faccio lo sforzo e dentro aria lascio e andiamo sempre a sentire il lavoro degli alti superiori e delle scapole quando abbiamo mantenuto l'elastico trazionato andiamo in retroversione un po col bacino e riportiamo di nuovo il mento sul petto lasciamo l'elastico e torniamo con lo sguardo dritto e con la lombare neutro di nuovo fuori aria una piccola retroversione curviamo tutta la schiena portiamo anche il mento sul petto e dentro aria torniamo facciamo con una volta restiamo in posizione con le due curve lunghe trazioniamo l'elastico 1 2 3 4 ancora 5 6 7 8 9 e 10 e ritorniamo e lasciamo e questa volta sciogliamo solo la testa mento sul petto e torno dritto scivolo la nuca a parete e porto il mento al soffitto fuori aria giù e prendo aria su ancora 1 fuori aria giù e prendo aria su e poi andiamo agganciare tutti e due i piedi sentendo bene l'elastico che tira le ginocchia tese e dobbiamo stiracchiare tutte e due le gambe punta tallone insieme riarticoliamo bene le dita la muscolatura del collo e dell'arco plantare fuori aria punta dentro l'aria flex mantenendo sempre bene la schiena dritta l'ultima volta restiamo in flex e cerchiamo piano piano di staccarci dalla parete con tutta la colonna per scendere piano 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 giù con l'addome sulle gambe se volete andate afferrare l'elastico un po' più giù in modo da riuscire a sentire che scegliamo il più possibile manteniamo bene tutte e due le ginocchia che tirano la schiena bene in avanti ancora un bel respiro profondo e poi srotoliamo e piano 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 riaccompagniamo la schiena in appoggio a parete che ce l'abbiamo ancora come riferimento per tornare dritti ok togliamo l'elastico un attimo perché ci dobbiamo girare e metterci a squadra vicino alla parete quindi vicini vicini più che si può e poi recuperiamo l'elastico che ci serve perché ci dobbiamo allungare dicevamo oggi giornata di allungamenti vari quindi mettetevi con il pub il più vicino possibile alla parete organizzatevi stendiamo le gambe e recuperiamo l'elastico ok benissimo tra le mani se avete bisogno sempre di sistemare comoda la testa in modo da non sforzare la cervicale la lombare è ben in appoggio già le gambe devono tirare un pochino nella posizione l'elastico lo afferriamo con le due mani bene le braccia sono all'altezza delle spalle e spingiamo i talloni in fuori quando trazioniamo l'elastico lasciamo punta tutte e due piedi quando lasciamo l'elastico e di nuovo fuori aria tiro coordiniamo braccia piedi dentro aria lascio fuori aria tiro e dentro aria lascio facciamo ancora un paio di volte lasciando le ginocchia più tese che si può l'ultima volta restiamo in flex e molleggiamo l'elastico in fuori 1, 2, 3 scatole ben in appoggio a terra 7, 8, 9, 10 lasciamo l'elastico un po' attirato e portiamo le braccia tese al pavimento dietro se ci arriviamo e anche le gambe restano tese con i talloni pronti spinti in fuori andiamo a farci un pochino scivolo col mento sul petto e torno in neutro fuori aria porto il mento sul petto e torno con lo sguardo al soffitto ancora due volte sentiamo solo il lavoro della cervicare e il tiraggio di tutta la colonna vertebrale ok, torniamo con le braccia al soffitto e andiamo a fare la retroversione del bacino quindi un pochino, un pochino stacco il bacino da terra scivolo con le gambe tese a parete con i piedi in flex e scendo l'elastico resta un pochino sempre trazionato perché oggi dobbiamo sentire la forza delle braccia e delle scapole del tratto toracico facciamo ancora tre volte retroversione solo del bacino e lungo la lombare e ritorno e ancora fuori aria vado stringo tutto, addome, glutee, parete pelvica, tutto e scendo ancora due scivolano poco, poco le gambe a parete in su l'ultimo resta un po' in su e insistiamo con l'elastico tirando uno, due in fuori tre, quattro, cinque, sei, sette, otto, nove, dieci e riscendiamo giù ok recupero un attimo piego il ginocchio tolgo elastico lascio un po' le braccia in giù scivoliamo con le spalle e le scapole un pochino su e un pochino giù morbidamente prendo aria fuori aria andiamo un attimo a rilassare dopo lo sforzo prendo aria in su e fuori aria in giù ok usiamo l'elastico per il piede partiamo con la gamba destra afferriamo bene il piede e stendiamo la gamba facciamo tutte e due le gambe tese però la gamba destra con l'elastico ok stacchiamo la gamba destra dalla parete l'elastico ci aiuta molleggiamola un pochino verso l'addome chiaramente siamo tutto in tiraggio quindi si sente molto se non riuscite a tenerla tesa tesa la potete flettere un pochino dopodiché punta tallone e ripetiamo l'esercizio di caviglia di rinforzo fuori aria punta dentro aria flex poi restiamo di nuovo tallone ginocchio teso retroversione e bacino scivolando solo con la gamba sinistra tesa a parete manteniamo bene la gamba destra più che possiamo verso di noi con l'aiuto dell'elastico e poi piano piano riaccompagniamo il bacino giù e riappoggiamo il tallone destro a parete facciamo in dinamica quattro volte stacco srotolo fuori aria vengo su scendo riappoggio il bacino riappoggio la gamba prendo aria ancora fuori aria vado e dentro aria torno ancora due fuori aria vado sentite la forza della gamba di sotto che spinge e l'ultimo e riappoggiamo giù ok riposiamo con la gamba sinistra piegamola un attimo e nel frattempo apriamo la gamba destra in fuori scivolando tesa tesa a parete arriviamo fin dove possiamo facciamo dei bei respiri profondi e allunghiamo l'interno coscia manteniamo un po' continuiamo a respirare profondamente sentiamo che tira anche tutto all'adduttore e poi l'ultima espirazione scivoliamo piano piano il ritorno e ripieghiamo ok proviamo dall'altra parte stacchiamo l'elastico e agganciamo l'altro piede il piede sinistro partiamo con tutte e due le gambe tese e stacchiamo la gamba sinistra dalla parete molleggiamo gambe tese molleggiamo la gamba verso di lui con l'aiuto dell'elastico cerchiamo di tirarla quanto più possiamo e poi una volta lì punta tallone e articoliamo anche di qua la caviglia colpaccio, tibiale, tutto quello che lavora restiamo in flex ginocchia tese scivoliamo in retroversione del bacino anche di qua con la gamba destra che scivola tesa tesa sulla parete e ci portiamo dietro la gamba sinistra all'addome ritorniamo srotoliamo piano 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 e torniamo in appoggio con il piede sinistro che ritorna sulla parete facciamo in dinamica coordinando con il respiro fuori aria vado dentro aria torno quattro chi vuole non solleva il bacino lo fa più piccolo tre sentiamo il lavoro della gamba destra di sotto due molto bene è l'ultimo e ritorniamo giù pieghiamo il genocchio destro riposiamo e nel frattempo scivoliamo con la gamba sinistra tesa tesa a parete più giù che possiamo andandoci anche qui a fare un bel allungamento facciamo dei bei respiri profondi rilassiamo mettiamo forza nel collo nelle spalle nel momento di defaticamento controlliamo se stiamo tenendo dei muscoli che invece dobbiamo lasciare liberi rilassati e poi piano piano ritorniamo ok togliamo l'elastico anche da qui e facciamo un lavoro senza elastico con tutte e due le gambe insieme tese sempre lungo e lungo e lungo stacchiamo alternativamente prima una gamba e poi l'altra fuori sta dentro appoggio fuori sta cercando di mantenere belle lunghe tese con i piedi in flex tutto il lavoro che abbiamo fatto fino adesso con l'elastico con il quattro benissimo tre due ok e l'ultimo e poi uniamo anche il sollevamento del bacino un po' quindi scivolo con una gamba salgo col bacino stacco l'altra all'addome riscendo tutto insieme giù dall'altra parte con l'altra gamba sempre scivolando con la gamba la parete fuori arrivato e dentro l'aria torno facciamo ancora gli ultimi quattro e torno e fuori vado tre e torno e stiracchiamo al massimo tutta la schiena e tutte le gambe due e l'ultimo e torno ok pieghiamo tutte due le ginocchia stacchiamo un attimo i piedi dalla parete e ripostiamo un attimo massaggiamo la schiena giù e dordoliamo un pochino destra e sinistra tutta la schiena andando un attimo a compensare ok tutto abbandonato giù e poi già che siamo in fase di rilassamento facciamoci anche la respirazione appoggiamo i piedi comodi a parete quindi un angolo un po' più giù di 90 gradi con le piante dei piedi in appoggio e andiamo un attimo a respirare due minuti chiudiamo gli occhi abbandoniamo il corpo giù e andiamo a percepire un respiro profondo oggi proviamo a fare sei secondi per inaspirare e sei secondi per ispirare concentrandoci bene sull'addome che gonfia e sgonfia sul corpo che si rilassa facciamo dei bei respiri buttiamo l'aria lontana il più possibile esce dalle labbra socchiuse e arriva fino al soffitto bene facciamo ancora due volte contiamo fino a sei sforziamoci di allungare i tempi sia dell'inaspirazione che della nostra ispirazione perché il respiro ci calma ci rilassa oltre a ossigenare bene tutto il nostro corpo facciamo ancora l'ultimo e poi piano piano riapriamo gli occhi e stendiamo di nuovo le gambe a parete spingendo tutti e due subito i talloni in flex ginocchia tese andiamo a fare l'altro movimento alternando prima scivolo con la gamba destra tesa a parete e torno al soffitto e poi fuori aria vado con la gamba sinistra e torno e alterniamo fuori aria vado dentro aria torno sentiamo ancora il lavoro dell'addome non solleviamo il gluteo in posto ok manteniamo le ginocchia tese e tese risentiamoci anche qui senza elastico sentendo il lavoro di prima controllando tutto fuori vado dentro torno non andate dietro al movimento con l'altra gamba che resta ferma al soffitto e poi facciamo tutte e due le gambe insieme fuori aria apriamo e dentro aria richiudiamo insieme espiro inspiro sentiamo il lavoro degli adduttori ancora quattro e torno e ancora tre e torno e vado due e sto e l'ultimo e sto ok lasciamo le gambe aperte facciamoci l'allungamento di entrambi gli adduttori tre bei respiri profondi cercate di non mettere forza è un momento di abbandono come prima quando abbiamo respirato cerchiamo di riportare alla memoria il rilassamento di prima un grande respiro profondo lungo grande e poi piano 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 insieme rifiudiamo tutte e due le gambe ok andiamo a slittare un attimo le anche sciogliamo quindi una gamba lunga e una gamba accorcia mantenendole sempre tese nella medesima posizione con i piedi in flex vado e vado e sentiamo questa mobilità del nostro bacino ok adesso senza elastico portiamo tutte e due le braccia tese e tese dietro e contemporaneamente scivoliamo con tutte e due le gambe a parete allungando bene la lombare in retroversione ritorniamo col bacino in giù e portiamo le braccia al soffitto e di nuovo coordiniamo gambe e braccia insieme fuori aria vado allungo stiracchio al massimo vado su e dentro aria piano piano riappoggio ritorno in dinamica ancora tre volte fuori vado stringiamo subito addome glute e parete pelvica dentro aria scelta ancora due sentite tutte e due le gambe tese che scivolano a parete e torno l'ultima volta restiamo su con le braccia tese dietro e proviamo ad alternare prima stacco una gamba poi stacco l'altra 1 2 3 4 5 6 6 7 8 9 10 e 10 scendiamo insieme portiamo le braccia giù e piediamo le ginocchia mettiamo le mani sulle ginocchia e rilassiamo solo la testa fuori aria portiamo il mento sul petto e dentro aria portiamo il mento al soffitto e piano piano scivoliamo con la nuca al pavimento andando a rilassare bene la cervicale movimento piccolo piccolo della nostra testa e poi mettiamoci comodi scivoliamo con i piedi un po' più giù in modo da appoggiarli a terra ok quindi allontaniamoci un po' dalla parete dondoliamo un attimo le gambe destra e sinistra sentiamo un attimino con il bacino che si decontrae e poi lentamente dobbiamo metterci comodi come vogliamo o ginocchia parallele o ginocchia aperte come vogliamo per farci la meditazione e visualizzazione di oggi il respiro è normale gli occhi sono chiusi concentriamoci a sentire il nostro corpo all'interno e andiamo a sentire tutta la colonna vertebrale che traziona quello che abbiamo fatto oggi nella lezione e questa trazione del bacino si continua a proseguere quindi si continua a percepire anche nelle gambe qui concentriamoci sul tratto lombare della colonna quando espiriamo sentiamo la codina che tira il tratto lombare si allunga le gambe continuano a tirare anche loro dalle anche l'energia percorre tutte le gambe fin giù ai piedi traziona anche i piedi e prendo l'aria e facciamo così per 3-4 respiri profondi come prima andando a percepire questo allungamento e questa trazione del tratto lombare della colonna che si ripercuote negli arti inferiori che tirano e allungano sempre nell'espirazione perché è una fase del respiro che ci aiuta maggiormente a sentire questa tensione che va proviamo l'ultima volta e poi proviamo sul tratto cervicale la testa trazione in allontanamento con il centro della testa proiettato al centro della sala contemporaneamente l'allungamento prosegue nelle scapole e nelle spalle e tira le braccia in allontanamento dal corpo e l'energia arriva fino alla punta delle mani anche qui 3-4 respiri profondi concentrandoci sul tratto cervicale della colonna che tira e prosegue negli arti superiori trazionando le braccia il più lontano possibile dal corpo sentiamo questa sensazione che ci aiuta ad allungare a stiracchiare al massimo proviamo ancora l'ultima volta anche negli arti superiori coordiniamo sempre con il respiro la nostra visualizzazione e poi lasciamo andare ok bene ritorniamo in noi quindi sentiamo il centro del corpo riapriamo piano piano gli occhi e lentamente cominciamo di nuovo a muoverci nello spazio per ripiegare le ginocchia per chi ne aveva stese e ci giriamo sul fianco piano piano prima il bacino poi il torace la testa passiamo sempre per la posizione di allungamento del fanciullo quindi approfittiamo restiamo sempre un pochino in questa posizione che maggiormente ci fa percepire tutta la corona in questo caso le braccia che allungano come nella visualizzazione che abbiamo fatto preglievi il vostro tempo non c'è fretta siamo in fase di risalita ok facciamo ancora un bel respiro profondo e poi niente piano 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 ognuno lentamente sale con i propri tempi come sapete puntando i piedi dietro spostando il peso del corpo e anche qui ognuno si prende il tempo che vuole tanto dobbiamo solo piano piano fare un'ultima salita finale srotolando tutta la schiena sentendo tutti i nostri stiracchiamenti bene alla prossima